Quelli che ci hanno prestato denaro sono gli stessi che ci avevano colonizzato, sono gli stessi che gestivano i nostri stati e le nostre economie, sono i colonizzatori che indebitavano l'Africa con i finanziatori internazionali, che erano i loro fratelli e cugini. Noi non centravamo niente con questo debito, quindi non possiamo pagarlo. Il debito è ancora il neocolonialismo, con i colonizzatori trasformati in assistenti tecnici, o meglio in assassini tecnici. Che cos'è la povertà? Di che cosa vorresti essere ricco? Che cosa ti ha spinto a partire? La voglia di vedere, di conoscere il mondo e di scappare dal provincialismo. Di che cosa vorresti essere ricco? Di cultura, avere un'idea di come gira il mondo. Perché sei partita? Cercavo un posto dove vivere in una dimensione più umana. Stai bene dove sei? Sì, sono molto contento di essere qui nel Senegal, a conto di miei parenti, miei fratelli, miei amici. Perché sei partita? Avevo un'associazione culturale e mi sono accorta che in realtà la socialità non esiste a Milano, in Italia, in questo momento. Al posto di dividere il mondo in paesi ricchi e paesi poveri, non è forse il caso di chiedersi ricchi di cosa e poveri di cosa? Oggi può diventare una questione che ci riguarda tutti da vicino. Qui la festa pare proprio essere finita, ma se impariamo ad osservare con altri occhi, forse avremo la forza per cambiare qualcosa, davvero. Grazie a tutti.